Questa simpatica nonnetta va dal medico il quale gli prescrive una confessione di supposte Allora sta nonnetta torna a casa con queste supposte, si inizia a leggere le istruzioni Se le guarda, se le riguarda, a un certo punto chiamar nipote e gli fa Angelo via qua bello de nonna, dimmi nonnina, senti Angeli, chiamar dottore Dio come devo usare questi pasticconi qua, se li devo sciogliere l'acqua, se li devo dividere E insomma, chiedegli come se usano, perché io ne so proprio saste unibluxe Va bene nonnina, allora chiamo il medico Pronto parlo con il dottor Quarta? Sì, salve sono il dottor Quarta Salve dottor Quarta, sono il nipote della signora Marini Senta, mia nonna voleva sapere come andavano usate quelle medicine che lei le ha prescritto Ah sì, è molto semplice caro ragazzo, guardi, vanno utilizzate per via anale Ah, via anale dottor, va bene, la ringrazio Ah nonni, ha detto il dottore che le pasticche queste vanno usate per via anale Per via anale, Angeli? Ma che vuol dire per via anale? Ma che ne so io, io manca la terza media, ho fatto Richiamo al dottore e chiedegli spiegazioni più specifiche Eh va bene nonni, allora richiamo al dottore Pronto dottor Quarta? Sì, salve con chi parlo Sono sempre il nipote della signora Marini Mia nonna non ha capito bene come vanno utilizzate quelle medicine che lei le ha prescritto Ah ho capito, guardi, vanno utilizzate per via rettale Ah vabbè, la ringrazio dottor Nonnina, il dottore ha detto che le medicine che ti ha prescritto vanno prese per via rettale Per via rettale, Angeli? Ma che vuol dire? Ma che ne so io che vuol dire via rettale? Richiamelo e chiedegli spiegazioni migliori perché io non ci ho capito proprio niente Eh ho capito nonni, ma se questo richiamavo un'altra volta, questo se incavola Eh ho capito, ma io mi devo via queste medicine, devo capire come me le devo via Eh vabbè nonni, allora ho richiamo Pronto dottor Quarta? Eh salve con chi parlo Eh sono sempre il nipote della signora Marini E le chiedo scusa dottor Quarta Senta, mia nonna non ha capito come vanno utilizzate le medicine che lei gli ha prescritto Ah ho capito, allora gli dica a sua nonna che se le deve metter culo Ah vabbè, la ringrazio dottor Allora Angiolè che ti ha detto il dottore? Eh ti ha detto che se incazzava nonni